Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte. 40 anni di cultura nella società è il titolo di un libro che non è in vendita ma è offerto gratuitamente alle biblioteche per i loro lettori. Racconta la storia di 40 anni del Centro Studi Cultura e Società, un'associazione nata nel 1982 e che al compimento del suo quarantesimo anno abbiamo pensato di celebrare con alcuni eventi rievocativi della nostra storia e la pubblicazione di un libro ricerca che attraverso testimonianze, tabelle, una quarantina di tabelle di dati, oltre 500 fotografie, racconta circa 2.100 eventi realizzati con la partecipazione di oltre 300.000 artisti, concorrenti, pubblico, eccetera, eccetera, e molte testimonianze raccolte per l'occasione. Tra queste ci piace ricordare quella del professor Marco Brunazzi. Tenacia e competenza sono state ovviamente decisive per il successo di questa esperienza. Altrettanto è stata la sua originalità di offerta, genuinamente formativa, mai calata dall'alto e la capacità empatica ed emulativa sviluppata e mantenuta con i cittadini del quartiere. Tra le molte iniziative realizzate, mostre, concorsi, convegni, serate, dibattiti, ci piace citarne una di grandissima attualità, che è il premio per la pace, giunto alla 32esima edizione, che è stato proposto per la prima volta nel 1983. Questo è un premio che ha superato i confini nazionali, con premiazioni in tutta Italia, a partire da quella che ha un po' sconvolto i giornali cittadini nel 1984, quando abbiamo fatto la prima premiazione. Ogni anno vengono riproposti quattro premi storici. Quello per la pace ha un costante successo di partecipazione a livello di concorrenti e di presenze di premiazioni. In un decennio il premio per la pace assume le dimensioni internazionali. In un periodo storico in cui le relazioni erano meno condizionate dai formalismi burocratici, il regolamento veniva tradotto in francese, in inglese, in spagnolo, in tedesco ed inviato alle ambasciate. Sono così arrivate poi le poesie da molti paesi, a Rechipa in Peru, fino a Pechino. E dopo la caduta del muro di Berlino è stato tradotto anche in ungherese. Tra le tante sedi di premiazione ci piace ricordare Recanati, dove per quattro anni abbiamo realizzato le premiazioni principali di questo concorso e che si sono svolte nella città leopardiana insieme agli ambasciatori che avevano liberato le marche, quindi per dare il segno dell'importanza di queste premiazioni. Ma la nostra attività continua tuttora, anche dopo il periodo della pandemia, avvalendoci di strumenti diversi, oltre che le molte iniziative in presenza, utilizziamo oggi anche serate in videoconferenza, premiazioni in videoconferenza, quindi ci siamo un po' modernizzati. La nostra attività continua tuttora. Segnaliamo agli spettatori l'importanza del sito. Sul nostro sito trovate digitalizzato tutto il materiale storico dell'associazione, circa 700 pubblicazioni, tutte in pdf, i video e tutti i programmi. Ma il nostro è un invito a partecipare ai prossimi eventi. Se siamo riusciti a incuriosirvi, parlandovi della nostra associazione, del nostro libro, scriveteci e contattateci, partecipando con le vostre emozioni e con la vostra creatività. Insieme, per ritrovarci fra otto anni, ai 50 anni di cultura e società. Buongiorno a tutti, io sono Enrica Bianchi, sono la vicepresidente dell'Associazione Italiana Dislessia e lo scopo della nostra associazione è proprio quello di diffondere una corretta cultura sui DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. La forza della nostra associazione è proprio quella di avere più anime all'interno, cioè la componente dei genitori, delle famiglie, dei dislessici adulti, della scuola e della sanità. E questo sguardo a 360 gradi ci permette di intercettare maggiormente quali sono le esigenze delle persone con DSA e di portare avanti i loro diritti con forza dal momento che abbiamo un alto numero di soci, siamo più di 12 mila e abbiamo in questi anni portato avanti tantissimi progetti, soprattutto di formazione, di formazione per le scuole. Un grande progetto è stato Dislessia Amica che ha formato tantissimi docenti italiani, progetti per l'università perché come diciamo noi i nostri ragazzi crescono e progetti anche per il mondo del lavoro. Adesso passo la parola a Camilla che fa parte del Comitato Giovani dell'Associazione. Giusto, buongiorno a tutti, io sono Camilla Veneziani e appunto faccio parte del Comitato Giovani Aide Nazionale. È un comitato che porta avanti quella che è la voce di tutti i disturbi specifici dell'apprendimento. Infatti noi andiamo di scuola in scuola, ma non solo, a raccontare quella che è la nostra vita, la nostra storia. Appunto il progetto si chiama My Story. Io personalmente ho deciso di far parte di questo progetto per poter raccontare quella che è la mia versione della storia, quella che è stato il mio impatto nel momento in cui sono arrivata nel mondo dei disturbi specifici dell'apprendimento e anche per cercare di fare in modo che nessun altro abbia una diagnosi così tardiva come l'ho avuta io. Infatti io ho avuto una diagnosi in seconda superiore. Quindi in realtà, per concludere, vorrei dirvi che se anche voi volete far sentire la vostra voce e ci tenete a conoscerci maggiormente, potete trovarci in tutti i siti dell'associazione, quelli ufficiali, e anche sui social, quindi con la speranza di incontrarvi presto e anche di conoscere le vostre storie. Noi vi salutiamo. Ben trovati, sono Roberto Casella e sono il presidente della Blue Diving School, un'associazione subacquea con sedia a Torino. Mi trovo qui oggi per parlarvi dei subacquei e del loro ruolo nella tutela dell'ambiente. Siamo tutti ben consapevoli dell'importanza dell'acqua e l'acqua riveste nella vita di tutte le creature. Ciò che è meno evidente è il contributo dei subacquei a tutela dell'ambiente. La premessa è molto semplice, siamo portati a tutelare ciò che amiamo. Conoscere ed amare il mondo sommerso ci permette di intraprendere azioni concrete. La nostra scuola nasce oltre 20 anni fa dalla passione di un grappolo di amici e ha deciso di veicolare questo messaggio di tutela dell'ambiente nei suoi corsi. Grazie al contributo di associazioni subacquee rinomate in tutto il mondo, proponiamo corsi nelle scuole, in modo da avvicinare già i bambini piccoli alla tutela del mondo subacqueo e alla subacquea in generale. Il contributo continua con la formazione universitaria. Mi riferisco in particolare ai corsi di biologia marina, dove un brevetto subacqueo è un complemento importante alle lezioni accademiche. Ma ci sono iniziative dove i subacquei si pongono in prima linea e vi voglio parlare in particolare, ad esempio, della pulizia dei fondali. Sono giornate intere dedicate dai subacquei alla raccolta di quelli che sono i rifiuti che si trovano in zone di mare e in zone di lago. In particolare mi riferisco ad esempio a rete abbandonate, plastica e copertoni di auto. Altre iniziative sono volte al monitoraggio e alla conservazione dell'ambiente subacqueo. Un progetto molto importante è il Garda Baseline. È un progetto che si pone un grosso obiettivo, quello di raccogliere più dati possibili per il lago più grande d'Italia. In questo caso i subacquei si immergono, raccolgono tutte le informazioni sulla variazione di temperatura, sulla variazione di visibilità, sulla qualità e sulla quantità di flora e fauna. Altri progetti importanti sono, ad esempio, quelli di tutela ittica. I subacquei immergendosi pongono sott'acqua delle fascine e dei rami che servono proprio ai pesci per aiutarli al ripopolamento. Ci sono anche progetti, ovviamente, nei laghi. Il più grosso che mi viene in mente è il progetto AWARE. È un progetto che si pone come ambizione quello di tutelare ben 100 spazi, sia compresi sia di mare, sia di laghi, in 175 nazioni. Ciò che è importante capire e ciò che abbiamo veramente realizzato con la scuola è un messaggio importante. Vogliamo tutelare il più possibile il mondo sommerso. Per fare questo dobbiamo avvicinare quante più persone possibili alla subacquea, instillare in loro la passione e far capire quanto veramente sia importante tutelare l'ambiente sommerso. Io vi ringrazio e, come dicono in gergo i subacquei, buone bolle a tutti. Brice Cornelio Coniglio, nato a Torino, il 10-10-1977. Se l'è presa comoda? Sì. Mi parli di Coniglio-Viola. Sì, Coniglio-Viola è un duo artistico fondato nel 2000 da Brice Coniglio e Andrea Viola. Non è qui presente, per fortuna. È un duo noto per il suo eclettismo. Erano gli enfant prodige dell'arte contemporanea italiana negli anni 2000 e poi sono completamente spariti di scena. La loro attività spaziava dalla net art alla video art, dalla musica elettronica al teatro multimediale fino ad arrivare a imprese spettacolari, quelle per le quali forse sono più note. Mi parli dell'attacco pirata? L'attacco pirata alla Biennale di Venezia. Che anno? 2007? Esatto. Giugno, 4 giugno, inaugurazione della 52esima, 54esima, non ricordo bene, Biennale d'Arte. Va bene, cosa successe? Il duo arriva su un, come si chiamano, una chiatta, quella per l'immondizia che si usa nella laguna, a bordo di questa enorme chiatta sormontata da un coniglio confiabile alato che faceva il verso al leone della Biennale per bombardare, catapultare sulla stessa sede della Biennale 52 colpi di cannone, uno per ogni edizione della Biennale. Giusto, esatto. E qual è il logo di coniglio di Veola? Coniglio Vitorviano, naturalmente, proprio a rappresentare l'eclittismo del duo, ma ha declinato in chiave digitale. Bottega rinascimentale nell'era digitale, così si definiva. Va bene, si fermi che cambiamo argomento. Ma è ancora un po' di approfondimento, forse. Decido io? Va bene. Cos'è? Caninchenhaus, come si legge? Caninchenhaus, A.P.S. Caninchenhaus, una cosa del genere. Significa casa del coniglio. È evidente proiezione di coniglio viola in un momento in cui il coniglio viola si trasforma. In qualche modo tutto il patrimonio di conoscenza, di consapevolezza, di esperienza nella produzione artistica da autori viene in qualche modo allineato, messo da parte per dare vita a una casa. A una casa di produzione in qualche modo, perché Caninchenhaus vuol dire appunto casa del coniglio, dove il duo fa un passo indietro dal palcoscenico, si sposte in qualche modo alla regia per favorire attraverso l'arte processi di partecipazione attiva, di cittadinanza attiva, mediati però dalla pratica artistica. Così vengono prodotti una serie di programmi di residenza innovativi, quali Via della Fucina 16. Anzi, iniziamo col Pirate Camp alla Biennale di Venezia del 2012, iniziativa quasi ufficiale, che permette a una serie di artisti di ogni nazionalità di soggiornare gratis all'interno di un campeggio allestito all'interno della Biennale, violando quindi il noto divieto di campeggio in laguna. Ma da qui poi le produzioni spaziano anche qui, abbiamo mostre in contesti istituzionali, quali il PAC, così come format totalmente non convenzionali, appunto il Pirate Camp, spettacoli teatrali che utilizzano le nuove tecnologie, e poi arriviamo all'esperimento forse più noto negli ultimi anni, anche a livello internazionale. Che io non gli ho ancora chiesto, mi parli di Via della Fucina 16. Proprio di questo volevo parlarle. Bravo. Via della Fucina 16, condominio museo, nato dall'idea del geniale Brice Coniglio, è un esperimento che è stato capace di trasformare un palazzo degradato nel cuore del quartiere Aurora in un hub di produzione culturale incredibile dove sono stati in residenza oltre 20 giovani artisti italiani e internazionali, ma anche grandi maestri, griffa, pistoletto. L'esperimento ha dimostrato appunto come l'arte possa diventare motore di inclusione e di identificazione anche di comunità che normalmente non... La stoppo, cos'è Borealis? Borealis è l'ultimo nato in casa Caninchenhaus, quindi coniglio viola, anche è un nuovo spazio che sorge proprio di fronte a Via della Fucina 16. Non posso dire molto perché deve ancora aprire, ma è una casa di coabitazione, di coprogettazione artistica sostanzialmente, al centro di Aurora, Aurora e Borealis. Aurora e Borealis, per me 30, senza lode però, senza lode direi. Ben trovate e ben trovati. Sono Elia Bellussi e sono il presidente del Museo Piemontese dell'Informatica, un'associazione di volontariato che è in Torino, in Piazza Riccardo Valla. Il Museo Piemontese dell'Informatica ha come attività principali quella del recupero e del restauro di computer storici, nonché la divulgazione scientifica, tramite mostre, eventi e laboratori educativi per le scuole e per i ragazzi dai 6 ai 16 anni. Le nostre attività sono rivolte ad un pubblico generico proprio perché cerchiamo di analizzare quelle che sono le problematiche legate alla trasformazione digitale, come ad esempio il gender gap, ovvero la differenza tra uomini e donne in ambito informatico. Ad esempio, svolgiamo attività come l'Ada Lovelace Day, in autunno, che è una giornata dedicata alle donne in ambito STEM, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, e ai loro successi, dedicato appunto ad Adda Lovelace, che è considerata la prima programmatrice della storia, nel 1860. Abbiamo i corsi per gli studenti e per i ragazzi dai 6 ai 16 anni, come il Coder Dojo o il Mupin Lab, in cui insegniamo loro attività di pensiero computazionale, di coding e di elaborazione dei problemi. Questi eventi sono generalmente mensili o bimestrali e sono appunto liberi e gratuiti. In primavera organizziamo Ebitto Vistory, un evento divulgativo che è l'evento principale della nostra associazione, in cui integriamo sia i laboratori, sia le esposizioni, sia le conferenze. Esposizioni che sono della nostra collezione, ma anche di musei italiani e stranieri che aderiscono all'iniziativa, ad esempio dalla Svizzera, dalla Francia o dalla Croazia. In questi eventi, aperti al pubblico e completamente gratuiti, cerchiamo di venire incontro anche alle problematiche e ai temi attuali, come l'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla società e sull'ambiente. Questo perché vogliamo far sì che le persone comuni possano avvicinarsi a questi ambiti, a questi temi e comprenderli, in modo da non farsi soverchiare da queste tecnologie che ci circondano e che permeano la nostra società. E' importante capire che l'informatica sta aiutando lo sviluppo sociale e culturale. Ad esempio, con la pandemia, l'informatica ha dato una mano per quanto riguarda l'educazione da distanza, oppure per quanto riguarda la gestione del lavoro da remoto. Queste tematiche sono importanti, riteniamo che siano importanti e vorremmo che venissero divulgate e che la popolazione possa comprenderle. Come associazione di volontariato siamo sempre alla ricerca di nuovi soci perché ovviamente cerchiamo di realizzare al meglio le nostre attività. Se siete curiosi di vedere questi vecchi computer come il Comodo 64 o di aderire all'associazione, vi rimando al sito mupin.it. A presto e grazie! Bentrovate e bentrovati, sono Dario Bonsignorio di Uni, l'Ente Italiano di Normazione. Sono qui con Fabio Rossi, nostro funzionario tecnico, per affrontare un tema molto importante e che ci riguarda tutti, l'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Intanto bentrovato Fabio. Bentrovato Dario. Partiamo intanto da qualche dato. Pensate, in Italia la percentuale delle persone che hanno un'occupazione nella fascia d'età dai 15 ai 64 anni si attesta sul 60%. Ma se prendiamo in considerazione le persone con disabilità che nel nostro paese ammottano in tutto a circa 3 milioni di persone, ebbene solo poco più del 32% di esse risulta occupata. Cioè circa la metà della media nazionale. Certo, se parliamo delle persone in cerca di occupazione, la media nazionale è dell'11,3%, che però sale al 20% se consideriamo le persone con disabilità. Insomma, i numeri rivelano un problema. Indubbiamente l'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro rappresenta oggi una delle grandi sfide socioculturali della nostra società. Una sfida che va affrontata urgentemente e con gli strumenti giusti. E a proposito di strumenti, possiamo quindi parlare di un documento operativo pubblicato recentemente dopo un lungo lavoro. La prassi di riferimento Unipdr 159. Senza dubbio. La prassi di riferimento Unipdr 159 è stata pubblicata lo scorso gennaio ed è stata sviluppata da Uni insieme a Regione Lombardia, Union Camera Lombardia, con supporto degli esperti del Comitato Disabili Regione Lombardia. E rappresenta veramente, per chi voglia affrontare in termini pratici questa delicata questione, un benchmark di grande utilità. Il documento fornisce infatti a tutte le organizzazioni le indicazioni di base per l'attivazione di un percorso di inclusione delle persone con disabilità negli ambienti di lavoro, delineando gli elementi ritenuti indispensabili e individuando le azioni e le politiche inclusive che l'organizzazione dovrebbe pianificare, attuare e monitorare. Possiamo fare qualche esempio concreto? Sicuramente. Intanto tra gli elementi indispensabili possiamo citare l'adeguatezza delle postazioni di lavoro, l'assenza delle barriere architettoniche, senso percettive e digitali e ovviamente la collaborazione con gli enti territoriali per l'inserimento lavorativo. Tra le azioni e le politiche di inclusione da pianificare e monitorare e con attenzione possiamo citare infatti la gestione flessibile dell'orario e dei ritmi di lavoro, la presenza nell'organizzazione di un piano strategico di inclusione, la definizione di momenti di condivisione e di confronto con il supporto delle figure appositamente specializzate come Diversity e Disability Manager. È un documento molto dettagliato? Lo è, lo è e per facilitarne l'uso e renderlo una guida per le organizzazioni è stato completato da una checklist di controllo per verificare e valutare la corretta applicazione di tutte quelle procedure previste per una politica di inclusione effettiva ed efficace. Tra l'altro vi segnano anche che il documento è completamente accessibile e gender inclusive. Il documento dà anche particolare rilievo a un aspetto non secondario, la specifica formazione del personale aziendale. Sì, pensate che in questo documento la formazione viene definita uno dei principali strumenti a disposizione dell'organizzazione per costruire e diffondere un'autentica e solida cultura organizzativa improntata all'inclusione e a favorire la crescita delle persone negli ambienti di lavoro. E non è solo un modo di dire, la pressi di riferimento che ricordiamo è stata realizzata con il supporto di un gruppo di esperti ed è promossa da Regione Lombardia, Union Camera Lombardia, mira a supportare le imprese anche attraverso una formazione adeguata rivolta a tutto il personale. Perché è solo attraverso di essa che il percorso di inclusione delle persone con disabilità all'interno dei luoghi di lavoro può effettivamente radicarsi nelle politiche aziendali. ma in tutto questo c'è anche un messaggio che non bisogna trascurare. La cultura dell'inclusione non è un vezzo etico bensì un reale valore aggiunto per tutte le organizzazioni dal punto di vista della valorizzazione delle competenze e delle diversità del singolo in grado di offrire un effettivo miglioramento della produttività generale. Insomma, creare ambienti di lavoro inclusivi non è solo giusto ma è anche una chiave per il successo. Beh, possiamo dire allora che il giusto e il bene a volte vanno veramente a braccetto. Grazie Fabio. Ricordiamo che per saperne di più sulle attività di Uni sulle norme tecniche e ovviamente sulle passi di riferimento potete consultare il nostro sito all'indirizzo www.uni.com Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione. Grazie a tutti.